Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla terza puntata del Let's Play di Nier Replicant. Siamo riusciti a prendere il grano offline, siamo andati semplicemente dal vendore al paese, così i due pezzi di carne di cervo li avevamo presi nella puntata scorsa per la strada per fronte mare, quindi possiamo cucinare lo stufato, ricorda di non fare bollire, ricorda di tagliare la carne a un pizzo, dobbiamo dare i consigli, questo si incazza, qualsiasi consiglio gli diamo. E guarda di non farlo per molto lungo, ok? Come on, non mi ricorda di tutto! Non mi ricorda di più. Io riconosco la maggior parte dei ingredienti, ma i piccoli di carne sono così grandi che non credo che ci sono cucinati. Eccolo, ok? Certo, Yonah, sembra... Delicioso! Ah, grazie! Vieni domani, Yonah non sarà l'unica qui che è morta. Non ti preoccuparti di me, io anche prenderò la medicina che ha fatto. Vieni per me. Ok. Che brutta vita che fa Yonah. Allora, vediamo, qua è passato un po' di tempo, i fiori, le piantine ci sono ancora. La gallina pure ci sono, non le possiamo uccidere. Possiamo tornare finalmente da popola. Oggi sembra il mio compleanno. Qua non si può entrare per qualche motivo. Ehi, ho portato una lettera per te. Oh, grazie. Oh, c'era. Cosa è vero? È dal mayor del Sfant. E' da non far capire che l'abbiamo già... detta. Non è buono. La mia arma era praticamente uscita contro la grande scena che abbiamo combattuto là. Vorrei che c'era alcun modo per fortuna mia arma. Ahah, adesso si chiude i potenziamenti per l'arma. Certo. Certo. Non ci sono liberi. Certo. 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 Ah, tutti potrebbero prendere due erbbre medicinali da me ancora? Sono dell'eserciata e ho bisogno di migliorare. Le si crescono in pastocci di grano o in base scena. Non penso che saranno le tante cose di trovare. Due erbbre medicinali. Certo. Ma già le abbiamo presi. Grazie per assicurare quelle erbbre per me. Perchè viene la vita se ho bisogno di questo. Allora, questa è la più facile che abbiamo mai fatto. Ok, quindi adesso conferma di decesso. Il corpo è di un occhio rosso al 99%. Probare qualcosa. Andiamo ad andare nel villaggio. Comunque, questa cosa qua non siamo mai riusciti... Cioè, siamo riusciti poche volte a lanciare il mostro. Soprattutto quei ragni non ci siamo mai riusciti. Eppure l'abbiamo fatta bene sempre. Vediamo. Dove sta la taverna? Qua dentro? No, eccola qua, Debola. Ciao, Debola. Vuoi lasciare una ragazza comprare una drink? Eh, non sono già 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 da drink, Debola. Anche, non è la mattina? Ha! Quando il sole non si tratta, che differenza fa? Eh, non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Solo Debola. Non so. Non so. Non so. Non nessuno. Non ho mai vedevo anche questo. Sonoっぽanchate che insegu latestale proporzioni. Letera, so hanno nap bitezze. Ah, sicuro. C선ere mi sìということon Amazing. Oh ok non problemi, sarò in giro sono tre medicole sono tre medicole non c'è nulla cosa che può curare la scuola non c'è nulla medica in lavoro di mangià può sperare di sostenere ci si può essere qualcosa potrebbe essere una droga che esiste per temporale il dolore ma nessuno può esercizare la scuola ma se la legenda è vera io prendo la chiusura per salvare la tua sista sei vero siamo salvati Yonah e curare la scuola black è il spirito andiamo a parlare un attimo con Popola vediamo se cantano sim ma secondo me non funziona così ma secondo me non funziona così allora vediamo un attimo la missione missione incompleta la ballata delle gemelle chiedi a devolo e popola di cantarti discuti con loro la questione la prossima volta dobbiamo vedere questa cosa mi è riuscito un'altra volta un messaggio strano via però signor dobbiamo andare al negozio del fumo del cerpame uno del cerpame E' pieno di scrappi e altre cose che nessuno ha capito. Attacchi adriani. Scusa, come facciamo arrivare al punto là? Aspettate un secondo, fermi. Allora, questi qui c'eravamo la nonna della taverniera, servono hermann medicinale, bacche e frecce reale. I fertilizzanti stanno dall'altra parte, questo lo riusciamo a fare e dobbiamo cercare il cane smarrito. Quindi è solo il cane smarrito che dobbiamo cercare. Andiamo a vedere un attimo là dietro, questo lo andavamo a cercare con il cinghialozzo però. Allora, guardate se c'è un metodo per teletrasportarsi in questo gioco. Penso di sì però. No. Questo è un cane? No. Non penso che c'è un cane travestito da qua. argilla. Facciamo un esperimento scientifico, dai No, non lo possiamo prendere, questo cinghiale No, qua si va da un'altra parte, ragazzi Come ci saltiamo da sopra? Questo sa qua il cane, è sicuro Niente cane Eppure abbiamo guardato bene, andiamo a guardare solamente da un po' dietro Quello è l'ombra dell'acqua Forse lo troviamo mentre... Ok, andiamo avanti Vediamo come si fa a scendere da quel punto E poi penso che ho proprio la forma del cane Non penso che è una di queste cose strane Ok 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 che è successo oh il cane dobbiamo prendere per forza la scala non scende questo che è successo E' l'erbe di Max. 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 Questa parte di Max. Ma c'è quella cosa le costere l'animal' la vita. Deve mangiare la prima forma alla vecchia. Si è dritto per l'occhio. Per l'occhio da un pochia, Questa è un pochia è mille, no living thing can escape their ultimate fate not include you vice in truth I have never considered the question I suppose at some point in time and they simply wink out of existence well that sounds horrible yeah see here that if I ever find myself departing this world quit being morbid vice besides you can't die you're made of paper one can always hope stando pure dovevamo prendere oi se non può morire di vecchiai però ma possono dare fuoco non so perché stiamo giocando se è perché stiamo giocando normale però ci dà un sacco di di armi medicinali ok siamo in una nuova area qua succede qualche cosa sicuramente ecco I'm hungry I know, hold on Maybe we have some old bread here Hey there Oh, welcome Please come in What is this place? It's my shop I'm the finest smith in these parts Usually See, my brother and I build items from scrap We find in the junkie But we're a little low on supplies at the moment The junkie, you say? That's right Folks say it used to be a military base I don't know about that But there's lots of great stuff in there It's not exactly the safest place in the world But we gotta eat, you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young And Mom is... She's out right now Getting supplies But I'm sure she'll be Mom's been gone for seven days When's she coming back? The mom done Seven days? That's a long time It's getting harder to find good scrap She probably had to go deeper into the heap I said, I'm hungry So if you had the materials Would you be able to upgrade our weapons? Well, yeah But it's really dangerous in there right now So we... No problem We'll go You... you will? I want to upgrade my weapon And besides, you need inventory for your shop, right? Well, yes, but... It's settled then What do you need? Well, to improve your weapon I'll need three titanium alloys You can get them from the defense robots around the map Got it Here's a map of the complex You're probably going to need it Finalmente qualcuno che ci dà una mappa Please It's gotten really scary in there It's gone back in... Ehm... Quello detto che diventa pericoloso Noi sappiamo Perfetto Oh, che c'è qua? No, mi sa che qua ci dobbiamo unire dopo, dai Ah, si va ancora in un'altra area di tipo diverso Ah, si va ancora in un'altra area di tipo diverso Non che abbiamo idea di come funziona Ruini di tempi antichi Patrulli per eoni Per macchine non stoppabili Sì E credo che sono pieni di materiali rari Ma non ci va in aria questo Piazzera metallica Ammaccata Ma forse bisogna prendere un'abilità particolare Non da qua Là c'è qualcosa rosso Chissà cosa significa Ah però aspetta il teacher ci ha dato la mappa Quindi abbiamo la mappa Ok Perfetto Facciamo così allora Noi siamo venuti da qua Quindi se andiamo dritto C'è solamente una stanza col boss Probabilmente C'è un ascensore Quindi questo posto è più grande Di quello che Che sembra La porta è rotta e non si apre Perfetto Anche questa parte è rotta e non si apre Anche perché Altrimenti la mappa non sarebbe buona Quindi andrebbe forza da questa parte Questo posto è sicuramente A una della mia grande stanza E sicuramente Mi piace di complainare Vice Comunque questa C'ha uno svantaggio Quest'arma C'ha le combo Più corte Poi ci sarà un altro ascensore Gli ascensori non funzionano In questo gioco Vediamo un secondo una cosa Armi tutte Adesso abbiamo equipacciato questa No? Però non ci dice la combo Questa qui Lama senza nome Che Che avevamo prima C'aveva sei combo Ma qua non c'è scritto Nessuna parte Questa qua Invece ce n'ha solo quattro Vedete? Ah no Uno due Tre Quattro Cinque No Cinque Cinque Ce n'ha Giusto per Per fare un esperimento Equipaggia Uno due Tre Quattro Aspetta Uno due Tre Quattro Cinque Ah no Quella questa ce n'ha cinque Ma ne io Mi ricordo Ma ne io Mi sembra pure Che sono tolle quali Allora quindi Quell'ascensore Non funziona Dobbiamo andare da questa parte Giusto? Si Ma vedete Qui ci sta un po' dietro Questa si apre Sicuramente questa porta È abbastanza Questa è abbastanza È un lavoro davvero Per i bambini Sì E' abbastanza E' sicuramente L'amore Ha già dato Il suo Deve Il suo Deve Il suo Il suo Il suo Deve Il suo Deve Il suo Deve Il suo No Perché Non Ha funzionato Ma questa notte non si apre, ma qua ci dovremmo tornare, sicuramente. Qua c'è un'altra macchina. Qua andiamo ad andare giù, perchè non ha funzionato? Antenna brutta. Prendiamo la arma medicinale, qua uscirà uno un po' più grosso, però manco un pezzo di titanio l'abbiamo preso, eh? Quello che ho detto, delle macchine più grosse. Andiamo ad andare avanti nei golitori, da questa parte. Ok, qui usciranno delle altre macchine. Eccolo qua. Eccolo qua. Frega di titanio. Ok, quindi sostanzialmente in queste tre porte ce ne dà giusto tre. Dopo che abbiamo... Ma ci... Eccolo qua. Eccolo qua. Ma questo qua è il telecone a nera automata però questa parte qua. Vi ricordate? È nella fabbrica. No, 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 no. Usiamo la supermano. Ah, vedi? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, però abbiamo preso la cosa di titanio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfetto. Trattamente ho ripreso quattro pezzi di titanio. Perfetto di titanio. Perfetto di titanio. I don't wanna wait! I wanna find Mom! Nice... Yes, yes, I know. We're off to search for the misplaced mother, aren't we? Please, no. I already owe you far more than I can ever repay. Ah, don't even worry about it. You don't understand. Our mother is... Hmm? Never mind. Allora, la mamma normalmente va molto profondamente dentro le montagne. Hai bisogno di usare l'elevator, quindi vorrei darevi l'activazione. Scusa, questa qui... Perché non abbiamo aggiornato questa qua? Via, via, via. Perché quella lì ce l'aggiornava gratis. Quindi dobbiamo andare... Un'altra volta salviamo. Dove stavamo prima. Però questa volta dobbiamo prendere uno dei due ascensori. O dobbiamo andare qua? No, però il gioco dice di no. Ci sarà un terzo ascensore, evidentemente. Allora, ha detto che la mia mamma sarebbe una cosa profonda nella montagna, certo? Se lo posso chiedere, che è quello che ti possiede a meddare con gli affari di questi bambini? Yonah e io both know cosa sembra di perdere la tua madre. Ok, vediamo un attimo. Allora, di rito c'è un ascensore, sicuramente. Qua possiamo andare a S1. Secondo me non era S1 dove andavamo andare, però. S1. Di rito c'è un ascensore. S1. S2. S1. S2. S1. 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 S2. S1. 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 Ok, questa qui non si apre secondo me, si aprirà dopo. Ragazzi dopo vuol dire sicuro che significa, perché se vi ricordate sul Nero Automata Dopo poteva significare anche in un altro... Adesso ve lo dico io come funziona. Da dove siamo entrati? Siamo entrati da qua. Ve lo ricordate quella ragazza che si chiama Kane? È molto probabile che dopo... Adesso finiamo un attimo la storia con questo, o un po' di storia con questo. Poi dopo impersoniamo lei. Sono ragionevolmente certo. Con degli esplosivi. E dove ne prendiamo gli esplosivi? Ah, eccola qua. Però siamo quasi morti pure noi. Però dovevamo lanciarlo. Questa non si apre. Né? Che... Che... Le... Che... 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 A presto. A presto. Fa un po' più caricamento di magia. Non sto capendo più niente. Adesso sono aumentati un po' troppo. Fa un po' più caricamento di magia. Noi dobbiamo scendere ancora più giù. Noi. You can't possibly believe their mother managed to fight her way down here. Or for that matter, that she has been collecting scrap metal for a solid week. Open your eyes, lad. The woman is clearly... She's alive. Miracles don't happen if you don't believe in them, okay? Miracles. Ha! Ehm... Ok, soltanto non abbiamo perso 8 miliardi di vita. Però questo qui ci dobbiamo muovere a portarlo. E lanciarlo. Ma non... Perché questo qui dovevamo lanciare là. Ok. Do! Aspettate, forse c'è un modo per saltare. Aspettate. Aspettate. Non ci riusciamo a saltare, dirà. Vediamo nel tutorial se ci sta. Comandi di base. Doppio salto. Qua non ci possiamo andare, sicuramente. Quindi dobbiamo fare questo salto qui. Ma come si fa questo salto qui? Sì. Ah, aspettate. Così si fa. Ma dai ragazzi, questo è proprio i comandi base. Cioè la gente sapeva come farlo con NIR. Con NIR automata, perché l'hanno imparato qui? Ok. Ok. Qua. Uuh ragazzi, ci abbiamo visto, ma... abbiamo finito l'erba medicinale e qua ci sarà un boss perché ci fa salvare ma ci sarà un'erba ma ci sarà un'erba ma ci sarà un'erba c'è un'erba in questo modo che c'è un'erba un'erba non c'è il mio fai? non c'è il mio fai? Stai fokuso, Vice! Adesso mi sembra un Boston abbastanza buono, dov'è? Dov'è rimanere? Dio, lasciarvi essere morto! Oh, pensi? No, non era finito! No, non era finito! No, non era finito! No, non era finito! Che casino, ragazzi! Ora, tutto ciò che resta è l'esplosione! Si sembra che la magia non ha effetto contro la testa! La magia non ha effetto contro la testa! Dobbiamo lanciare le bombe! Le bombe! Ma secondo me le dobbiamo lanciare quando... ...quando si abbassa! ...dipo adesso! ...no, dobbiamo lanciare proprio Dini! ...dipo adesso! ...no, dobbiamo lanciare proprio Dini! Vai! No, gli abbiamo dato un sacco di energia! Adesso dobbiamo andare Perfetto Ancora un'altra Adesso ci lanciamo i missili C'è un sacco l'ultima volta Aspetta Ultima Una bomba Una bomba Eccola qua Non gliel'abbiamo messa Non gliel'abbiamo buttata ragazzi Niente No 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 Perché non ci va più Ci dovremmo essere usciti No Adesso si Ma invece no Ok Vai Sosì No No It's No Stiamo tenendo un verso sigillato Hai ottenuto la magia a voracità oscura Assorbi gli attacchi magici dei nemici Carica l'attacco per prolungare la durata dell'assorbimento Questa sarà la mamma di quello più un'altra Questa non credo Oh Oh That's awful So much for miracles Instead we have discovered the worst possible truth What will you tell the children I don't know I don't know Esamina È morta Ma, eh, è in cielo adesso Cosa? È vero, la tua madre ha lasciato questo mondo Liare! Non credo in te Ha mortato solo? Perché non sai tu che non era solo? Eh, beh, è bene È vero, ho capito tutto Ma mi chiede, è morto con la persona che ha amato? Abbiamo trovato due corpi È vero che hanno lasciato questa vita come una Ok? Come ancora Ma è sempre così frustrata, you know? Porn tra la sua duty per noi e la sua mente Credo... Credo che questo sia per il migliore È vero che hai scoperto? È vero che lei è mia madre, you know? È un'unica che ho mai avuto Abbiamo trovato questo vicino a lei Questo è il profumo di mamma È vero che lei Ho spero che abbia fatto la cosa giusta. Ehi, sicurezza via, ok? E grazie, per tutto. Le tue azioni sono giuste. Non lo scoprivo. Sono tutto che Gideon ha lasciato. Faccio ciò che bisogna. Non ci sta dicendo di andarcene comunque. E noi ce ne andiamo. Però siamo venuti qua per aggiornare l'arma che non ci serve. E il problema adesso è capire... Vedete ragazzi? Questa è la... Penso... Questa ci vogliono tre leggeri titani, ma adesso dove li troviamo? Allora... Vogliamo provare a tornare alla fabbrica, ma secondo me non funziona. Cioè, non ce ne fa trovare altre tre. Anche se dovremmo provare perché è buono. Vediamo. ... ... ... Questa è l'ascensore, e dov'era che dovevamo andare a sinistra e poi sempre dritto? Qua ce l'aveva dato un pezzo di titanio? Perchè non ce l'ha fatto dare il colpo? Perchè non ce l'ha fatto? Non l'abbiamo preso il titanio vero? No, nemmeno uno, però guardate poi un'altra cosa strana. Ci vogliono tre leghe di titanio per il livello 2 e poi dal 2 al 3. Maronna mia! Equipaggio, visualizza il titanio, ci vogliono due di titanio e poi tutta quell'altra roba. Questa è l'ascensore. Questa è l'ascensore. Questa è l'ascensore. Questa è l'ultima stanza ci ha dato i tre pezzi di titanio, però penso che questi qua non li danno più. Andiamo prima qua a sinistra e poi proviamo sopra. Questa è l'ascensore. 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 il motore è rotto niente no aspetta 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 vediamo un attimo che c'ho dato no nemmeno uno ok adesso proviamo sopra qua se no ci andiamo non nemmeno uno dobbiamo tornare non abbiamo preso nemmeno uno poi dobbiamo andare a sinistra va bene capire ma adesso bello strada che c'è qua coda di tovo vediamo un attimo da questi due vediamo se ci c'è qualche se ci c'è qualche altra informazione a qui si è vendi oggetti potenziarmi forza potenziarmi bisogna vedere dove trovare le altre leghe di titani ma secondo me non si trovano non ce ne sono più nella fabbrica salviamo un attimo vediamo che ci dice il gioco vuoi controllare la situazione a nido still let's visit the area they've got shades there indeed and we may just find a sealed verse Inoltre... Parti marziali, difesa fisica e paralisi. Ok, associo parone a tutti, questo è sempre Jeb, opps, ragazzi questa cosa è quasi impossibile questo. Allora, Jeb è la parola migliore, però mettiamolo pure qua, ok. Invece Lama è sempre Paha, difesa è diventato Oda, quindi Bess la dobbiamo cambiare. Ok, e le parole le abbiamo associate. Che adesso cosa so? Un altro topo? Andiamo Cingherazzo! Vai! Fuori dal mio modo! Ho bisogno di salvare Yonah! Aspettate, non puoi salvare se sei blindato con rage! Ah, non lo riesco perchè questo qui... Poi ci sono i vecchi libri scolastici a che servono. Riprendiamo il cinghialozzo, no? Vediamo di arrivare... Tra l'altro dobbiamo riportare... Abbiamo pure una quest che dobbiamo riportare... Oh, l'argetto, come si chiama, ok. E' senza magica. chi? chi ci chiama? ma ci viene a dare una mano? no, ci viene a dare una mano adesso stiamo morendo qua non capisco allora vediamo nel menu appunti tutorial non capisco ah passo laterale combo non ho capito questa cosa di carica però il passo laterale vediamo un attimo tutorial definire le magie nemici atterri i nemici questo è questo è non ci fa salvare forse non ci fa salvare qua oh il passo di prima il camale monte di prima della puntata scorsa non 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 vilde non non questo F***ing a**hole! Uhhh... Did you just say what I think you said? Terra... Goddamn lies! Piss in the sockets! Oh, sweet lord! I have never heard such a thing! Heeeeee! I'll take care of the big one! You worry about the rest! The rest... Secondo me, forse dobbiamo fare come dice lui! Dobbiamo... Ma non ci va indietro, però! Spaccacrani! Get out, Hatfreed! You brought these shades here! I don't want you! Just leave us in peace! Not the friendliest town in the world, is it? You disgust me! You disgust us all! Don't you dare call yourself human! Get out! Get out of our room! What is wrong with you people? She's trying to help you! Don't defend me! Heine! Sorry to keep you! Why are these people saying such horrible things about you? Whatever... It's all true anyway! What is that thing it's holding? It appears to be spewing them from within! Well, whatever it is, we need to take it out first! Aspettate ragazzi! Prendiamo un po' di erba medicinale qua! Perché non funziona? Dobbiamo fare prima da queste cose qui! Il tutorial recupero! Ragazzi va bene! Devo leggere tutte quante queste cose! Aspettate! Lì ci sono delle altre sfere! Prendiamo con il!」 L'altro occhio! Ah, non между-goda! Sì, però mi lascia giusto Aspetta Sì, ma non c'è lì, ma non c'è lì Questi qua no Però avete visto che Kine è andata da quell'altra parte Secondo me Funzionerà come Automata Quando prenderemo il controllo di Kine Perché sicuramente lo prenderemo Dovevamo fare qualcosa per cui Kine veniva da questa parte Questo finisce ora, assolto Siamo sottotitoli Sì Ok Ma qua abbiamo un sacco di danni da queste cose Come li dobbiamo fare? Non capisco Forse li dobbiamo passare dietro Ci deve essere un modo per farle sti cosi Che non è Con la forza bruta E con un sacco di pozioni Non capisco Um, ok Conviene saltare così qui, sicuramente Ma l'ho finito a dire che non veniva saltato Come, Kaine, come to me Come, Kaine, come to your grandma's side You've been lonely for so, so long So much pain, so much despair Why go on living anymore? Kaine? Is that it? Are you finished yet? Don't speak to your grandma like You're going to stop talking now And then I'm going to slowly walk over to you Cram my hand inside your goddamn bitch ass chest And pull out your fucking heart She's never told me to give up on life Never I've spent my entire life searching for a way to avenge her death She gave me the strength to deal with this goddamn mutant body Do you know how long I've been like this? No Ma perchè mi butti fuori? Aspetta, è un momentino Ah, non bisogna fare così. Non mi ha detto che mi ha dato un'escritto. Non mi ha detto che mi ha dato un'escritto. Ho spavuto la mia vita tutta una forma di evitare la morte. Mi ha dato la potenza di affrontare questa cosiddetta mutante. Dovete sapere quanto tempo ho visto così? Quanto lo dico? Come facciamo? Ce l'abbiamo fatta? Non! L'hanno copiata da One Piece Caine! C'è la mia vita C'è la mia vita C'è la mia vita E in truth Perhaps death Is the greatest comfort We can offer her That's not your decision Hmm? You don't get to decide Who lives and who dies She's alive She has meaning and worth And we're going to save her Everyone has something to live for Even Caine Even Yona Perhaps you should save your pretty words for her Instead of wasting them on me Dobbiamo salire la scala Dopo andare da quell'altro Ponte Questo? Si Questo è già una seconda volta che la salvia Grandma Can I rest now? I'm so tired No, 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 no! You're going to live, Kainé! Live? What for? What? I had my revenge. And now it's over. Oh, now, see here. This is rich. Weiss! We helped you in some mad quest for vengeance, and now you think to bid us adieu? How can a fighter so skilled be cursed with such a thick head? A true warrior would fight. They would give all in the service of their friends. Friends? That's right. He's right. Kainé, we're friends now. See here, that was hardly the point. Okay, then what is the point? Kainé, we need your help. Will you fight with us? Fool, you cannot simply ask her outright. There is a proper order to these matters. One must ease into the topic with carefully considered words before commencing negotiations. Book? How dare you? I am Grimoire Weiss, wielder of arcane... Weiss, then. Do not abbreviate my name. You're an ass. But you're right. I can't just live for revenge. You mean, you're coming with us? These swords of mine need a true home. But you'll do for now. So, Black Skrull got your sister, huh? Yeah, and we need the sealed verses to cure her. Gotcha. So, let me show you what I'm going to say. What is it? Well, I'm not sure if this will help. But I know a guy who has the same disease. He's a king, actually. And his kingdom has been trying to find a cure for a while. It's possible they may have something. You think they may have discovered a cure? I said it's possible. I didn't say it happened. Anyway, the place is called Facade. It's deep within the desert. We should go check it out. If nothing else, we might be able to find some clues there. Indeed. And if this proves successful, it would certainly make our task a good deal easier. So, we have to go to... This one, we have a map. He's in the desert, but... This one, we have the map. This one, this one, this one, this one, this one... The map, yes. Perfect. We have to ask in the city. dobbiamo chiedere a Debora di cantare e vedere che succede e poi dobbiamo portare il coso al cane sappiamo qua non ci sarà niente sicuramente ma adesso questa viene con noi vediamo che viene che sta facendo andiamo andiamo a finire Come mai? Come fai pensare in villaggio da un'altra parte If you head out from another exit, I'll just meet you there You sure? I know Yonah would be really excited to meet you Don't force the issue now, her mind is clearly made up Not everyone loves the company of others as much as you, hmm? All right, I won't push it See you in a bit Ok Allora, facciamo un attimo queste due cose Andiamo al villaggio Quello del cane dove sta adesso? Allora, facciamo un attimo Allora, facciamo un attimo Excuse me, have you seen the old man who lives here? You mean granddad? He passed away Oh man Looks like he went with his best friend after all Here, hold on a second His dog had this leaf in his mouth when we found him That's the herb that granddad used for his heart medication Max must have been fetching it for him Nice to Max Well, I suppose I owe you a great deal I can't give you much, but I hope you'll accept this Such a faithful animal You think Max and granddad are together in heaven? I do I'm sure of it And this one 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 Hey, Devola Can I ask you a favor? You're asking me for a favor? Oh, now I've heard everything What? I heard you and Popola used to sing at the tavern I never got a chance to hear it, so Wait You want to hear us sing? Ha! Popola's been swamped lately, so I've been sung with her in forever But hey If she's up for it I'm willing Hmm What have we got today? Which job should I give you first? I've got a job from the postman in Seafront He needs your help with a personal matter I wrote down the client's location on your map So head over there to get the details Oh, you... Which job should I give you first? Oh, hey! Yona is looking for help I wrote down the client's location on your map I wrote down the client's location on your map Oh... Oh... Which job should I give you first? Some guy in Seafront wants to become a big time I wrote down the client's location on your map Ok Questo invece che dice? Ok Quindi andiamo a parlare un attimo con Popola Ehm... Vediamo un attimo Missioni, missioni incomplete E infatti, vedete C'è questo qui Ehm... Sì Dobbiamo andare a parlare con Popola Ciao Gianchi Questo qui è NER Replicant Che... E' un gioco uscito nel 2000 Non mi ricordo Hanno fatto il remaster Ed è quello che viene prima di NER Automata Che ho visto che mi è piaciuto un sacco Stiamo giocando a questo qui, però come Nidra Automata Fino adesso è una schifezza Poi dopo, sono ragionevolmente Certo che si trasformerà in un capolavoro spaziale Oppure perché la grafica è proprio brutta Aspetta, adesso sta compiando un attimo gli shader Penso a qualcosa del genere Ecco qua, adesso sei ripreso Posso chiederti un favorito, Popola? Sì, cosa è? Certo che te e Davila stavano insieme a la taverna E stavo chiederti... Oh, no, sì, è vero che stavano insieme Ma non ho fatto questo in qualche tempo È troppo spazio? È parte di questo Ma anche, ho bisogno un certo drinko prima che posso insieme in pubblico Beh, questo non è un problema, certo? È una taverna, dopo tutto In realtà, la cose che mi piace di drinko è abbastanza rara Ancora, avevano il follow-up questa quest Vediamo se ce l'ha segnato Alla taverna di fronte mare Sì, questo è fatto un po' più strano di Nira Automata Nel senso che ci stanno un sacco di queste secondarie E ti fa andare un sacco davanti e indietro E carico un sacco che Nira Automata non li fa tutti questi caricamenti Andiamo da Iona Però i combattimenti adesso Io non conosco esattamente i comandi, troppo bene E poi col controller sono una mezza pippa Però i combattimenti dovrebbero essere fatti molto bene Come quelli di Nira Automata Che dopo un po' di tempo Ti senti proprio che diventi bravo Un melone? Un melone? Tu hai fatto Che ci dici ancora? Vuole un melone? Allora, vediamo un attimo questo qui Se dobbiamo Ah, vedi? Non ce li fa annaffiare ancora Questo qua nemmeno Ma questo è il primo che abbiamo messo, mi sembra Questo Se ce lo fa Aspetta Speriamo questo Questo ce lo fa fare annaffiare Forse questo è il primo che avevamo messo Questo no Questo no E poi non ne possiamo mettere più di Ce li abbiamo i semi Ma non ne possiamo più coltivare Perfetto Salviamo Ragazzi E anche per questa puntata È tutto Noi ci vediamo domani Con la quarta puntata Del let's play Di Nii Replicate Ciao 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 Ciao